Buonasera. Più fame, più grinta, più mestiere hanno fatto la differenza. Credo che siano state componenti importanti per andare a vincere una partita che per noi era fondamentale. Però non dico solo questo perché oggi ho anche visto un altro passo avanti sotto l'aspetto del gioco, dell'intensità, della qualità, della compattezza di squadra che stiamo ritrovando. Ho visto un frosinone soprattutto nella parte iniziale del primo tempo, almeno per 20-25 minuti, aggredire la partita, giocare anche un calcio piacevole, sfruttando tutte quelle che erano le proprie potenzialità e poi dopo aver gestito anche con maturità una gara che non era così scontata come molti volevano farci pensare perché il Carpi è venuto qua per rovinarci la festa. Si vedeva da come hanno giocato la partita, da come hanno approcciato la partita. In questo siamo stati bravi a rimanere lucidi e soprattutto a portare tre punti per la nostra classifica a casa molto importanti. Mi vuole togliere una curiosità, non è un'altra domanda. Ma che è successo tra Concas e Dionisi poi alla fine? È stato uno scontro normale? Ma guardate, io credo che la scintilla sia stata quella davanti alla mia panchina dove sono stati ammoniti entrambi e quindi di conseguenza c'è stato qualcosa poi dopo nella parte finale della partita dopo il fisco dell'arbitro, però credo ero lì davanti e ho visto sicuramente che Federico non ha sbagliato nulla, non ha detto niente, non ha protestato, non ha offeso quindi in questo magari Concas era un po' più nervoso del solito visto che comunque non era riuscito nell'intento di portare via punti da qua. Vissere, quanto è influito il risultato sulla sostituzione? Cioè secondo me se stavamo 0-0 entrava Beghetto, lei ha messo Crainci. Il risultato di quel momento dico è che... Guardate, era una cosa che avevo già in testa anche prima della partita perché innanzitutto la valutazione è stata fatta sul fatto che noi da quella parte lì stavamo lavorando con Federico Dionisi davanti Federico è un ragazzo a cui togliamo anche qualche compito difensivo ogni tanto quindi per una questione di equilibrio da quella parte il terzino l'abbiamo preferito più bloccato e meno di spinta e con l'uscita di Matteo Ciofani avremmo perso anche dei centimetri sulle palle inattive dove Crainci invece ci rimetteva un attimino un po' in parità contro una squadra che è particolarmente strutturata perché ha almeno 6-7 saltatori di quasi 1,90m quindi in quello Andrea Beghetto che ha altre caratteristiche sicuramente non ci avrebbe aiutato in quel senso quindi questo è stato il mio ragionamento che vi riporto nel fare la scelta Il mio invece era che Garitana aveva il passo di Beghetto e inizialmente Crainci l'ho visto un po' in difficoltà Ma poteva starci come discorso, come ragionamento però secondo me Andrea Beghetto è un ragazzo che stimo tantissimo un ragazzo che si sta dedicando anche per migliorare quella che è la sua fase difensiva ha una lacuna che è quella dell'uno contro uno difensivo quindi è inutile che tanto ci andremo da qui alla fine A4 se non dobbiamo andare a recuperare un risultato se non dobbiamo andare a essere ancora più offensivi di quello che siamo preferisco un terzino più bloccato e che ci garantisca sicuramente più equilibrio poi lui è un ragazzo che si sta dedicando molto, sta migliorando e quindi non vediamo l'ora di poterlo poi usufruire in altri frangenti di gara Si era visto una squadra che comincia a interpretare ancora meglio questo 4-2-3-1 che poi spesso era un 4-4-2 con Federico che veniva esterno sulla linea dei centrocampisti cioè migliorata rispetto a Brescia, quasi padrono ormai di questo modulo? Ma guardate, quasi padrona dico di no però mi ha dato un segnale importante perché ho visto tante cose migliorate ho visto iniziare a ritrovare tempi e giocate in maniera tale da riconoscere le nuove linee di passaggio che ci sono sappiamo e sapevamo che nel cambiamento ci va sempre tempo al lavoro noi tempo purtroppo essendo verso la fine del campionato non ne abbiamo molto però se questa è l'attenzione, se questa è la disponibilità dei giocatori credo che si possa fare più velocemente possibile questo miglioramento che ci dovrà poi consentire di continuare su questa base migliorandola di partita in partita Volevo sapere sull'infortunio di Ciopri in cosa ha riportato? Io subito pensavo fosse un infortunio muscolare devo dire la verità poi invece credo che sia un problema adesso da verificare con gli esami come al solito del caso perché a caldo si fa sempre fatica a dare una diagnosi precisa però credo che sia un problema di schiena che gli ha creato questo problema di sciatalgia che gli precludeva comunque di correre liberamente però non sembra un problema muscolare quindi in questo siamo stati abbastanza fortunati Concludendo velocissimamente una prova di personalità della squadra nel senso che era importante vincere sono tre punti pesantissimi per questo finale di stagione Ma sì, sono tre punti molto pesanti perché eravamo obbligati a vincere non avevamo altri risultati e soprattutto affrontando una squadra scorbutica una squadra che comunque ti fa anche giocare male a tratti perché è una squadra che gioca esclusivamente sulle seconde palle e sui duelli tirando queste pallonate in avanti dove ti costringono a lavorare sempre in maniera fisica con giocatori che sono particolarmente strutturati e di conseguenza è stata affrontata con grande maturità con grande interpretazione perché per tratti abbiamo giocato secondo me anche una buona partita proprio a livello sia tecnico che tattico Il vantaggio e l'aspetto più importante su cui lavorare in una settimana standard dopo i ritmi forzennati di queste ultime settimane e dell'ultima in modo particolare finalmente sette giorni per lavorare qual è l'aspetto che iniziamo a curare in questi sette giorni? Credo che quando si ha la possibilità di fare una settimana intera di lavoro innanzitutto possiamo comunque andare a rimettere dentro qualcosa nelle gambe dei giocatori perché quando giochi ogni due o tre giorni purtroppo gli allenamenti sono più di recupero che non effettivamente per andare a migliorare quella che è la condizione del singolo calciatore quindi in questo senso sicuramente è quello e in più avremo delle giornate dove poter migliorare questo nuovo assetto che anche qua ha bisogno per forza di ore di lavoro sul campo per essere comunque migliorato Centinaia di persone ieri sera in ritiro entusiasmo oggi sugli spalti e a questo punto quante persone ci dobbiamo aspettare allo stadio di Chiavari e cosa diciamo alla gente di Frosinone per quanto fatto fra ieri sera e quest'oggi? Ma innanzitutto ieri sera è stata una cosa a mio avviso bellissima per me penso anche per tutti i ragazzi penso di poter parlare a nome di tutti perché essere incitati con quell'affetto con quel calore da questa gente io non so quello che hanno vissuto gli altri però io avessi potuto la partita l'avrei giocata ieri sera quindi andare a dormire con quell'adrenalina lì è sicuramente una cosa a me personalmente che non mi era mai capitata quindi sicuramente vanno ringraziati uno ad uno e adesso è normale che noi avevamo oggi la maniera per ricambiare con una vittoria perché sono anche quelle dinamiche dove si creano un po' delle dinamiche come fossero delle armi a doppio taglio perché poi dopo avevamo anche la pressione comunque di dover vincere e adesso è normale che la partita più importante diventerà quella di Antella come avevamo detto prima questa era la chiave che apriva la porta successiva per andare avanti sembra un giochino che credo che ci sia in commercio quindi adesso andiamo a Antella abbiamo una settimana per prepararci e per cercare di andare a vincere quest'altra partita che ci permetterebbe comunque di inseguire questo sogno ancora per un'altra partita e magari poterlo coronare qua in casa Mister faccio prima una battuta e poi la domanda domani alle 18 che fa? 17.30 alle 18? infatti 17.30 ma guardate nelle ultime partite ho fatto la scelta di non guardarle perché soffro troppo quindi ho detto se devo soffrire per le mie devo soffrire anche per quelle degli altri faccio fatica quindi domani magari mi collego verso le 6.30 sul telefonino per capire come è andata però indipendentemente da cosa succederà domani non cambierà di una virgola l'importanza della partita di Chiavari perché è vero che noi andiamo a Chiavari ma loro penso che abbiano il Bari in casa quindi non penso sia una passeggiata nemmeno per loro e nemmeno per il Palermo che comunque deve giocare contro il Cesena che si deve salvare quindi nella nostra testa non deve cambiare nulla se non recuperare energie prepararci bene cercare di fare un'altra vittoria pesante che ci permetterebbe di inseguire ancora per una domenica una promozione diretta se posso a proposito di domanda ora chiara se si vede la classifica tolto l'Empoli veramente si può fare quasi un enigma nel senso che ci sono tantissime squadre ancora che possono lottare per questo secondo posto quale sarà il fattore decisivo lo so che trovarne uno forse è paradossale però un fattore il fattore di queste due partite ma io credo che in questo momento l'aspetto psicologico possa fare la differenza in questo momento possa davvero spostare quelli che sono gli equilibri di queste ultime partite che hanno visto e che vedono comunque come protagoniste diverse squadre questo ha testimonianza che questo è un campionato dove la qualità era decisamente più alta era sicuramente un campionato dove le squadre attrezzate erano molte di più ecco perché alla vigilia avevo detto che al di là dei punti fatti che secondo me rispetto a quelli dell'anno scorso hanno un valore maggiore anche la posizione di classifica era quella dell'anno scorso ma con più squadre che comunque per forza di cose lottano e lotteranno ancora nelle ultime due giornate per questa promozione diretta questo ci deve solo dare grandi stimoli ci deve dare grande convinzione e quindi voglio fiducia da parte di tutti perché siamo sulla strada giusta di nuovo abbiamo imbloccato la carreggiata di nuovo quella che abbiamo battuto per tanti mesi e non dobbiamo più lasciarla da qua alla fine grazie grazie a voi grazie a voi